Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito, buon lunedì, è il 10 di giugno, quindi se anche tu il 10 di giugno dell'anno scorso hai goduto, hai goduto tantissimo, metti un like a questo video, sfondiamo il video di like, iscrivetevi al canale perché più siamo più contiamo e naturalmente la campanella per le notifiche per ricevere i video e sapere quando ci saranno le live, ce ne saranno alcune di molto interessanti in questi giorni, ma è anche il compleanno di Rafa, quindi tanti auguri a Rafa, credo anche di Ancelotti di cui adesso andiamo a parlare, comunque tanti auguri a Rafa, Rafa ti manca un gradino da fare, adesso divertiti agli europei, fai una bella figura, poi quando torni, bello riposato, ti manca un gradino, mi raccomando Rafa, la prossima stagione devi veramente fare quel passettino, ci siamo capiti. Carletto, se è il suo compleanno gli facciamo gli auguri, mi sembra di sì e quindi andiamo a parlare della bomba che ha lanciato Carletto Ancelotti sul mondiale per club, allora Carletto ha svelato che il Real Madrid non parteciperà al mondiale per club, dopo che nei giorni scorsi abbiamo parlato delle proteste del sindacato dei giocatori che ritenevano assurdo a fine stagione andare a mettere ulteriori partite nelle gambe in un momento in cui i calciatori dovrebbero riposare. Però quello che scopriamo dalle parole di Ancelotti, oltre il fatto che insieme al Real ci saranno altre squadre che non parteciperanno, quindi io direi che è un progetto che è già naufragato questo qua, come è giusto che sia, tutto quello che nasce dal fantastico duo Ceferin-Infantino deve naufragare, deve naufragare perché sono due personaggi insomma che non sono positivi per il calcio italiano, europeo e mondiale. Ma Carletto cosa ci ha svelato? ci ha svelato che la cifra che dovrebbe prendere il Real Madrid per la competizione, per questo mondiale per club è di 20 milioni. E allora qui un po' mi sono fatto due domande, ho detto ma vuoi vedere che i cheerleader italiani, da Studio Sport al Giornale Rosa, a tutto l'ambiente cheerleader, ci ha raccontato un sacco di balle ancora una volta. Perché io ricordo uno dei Ravezzani Boys, adesso non mi ricordo il nome, Bianchi, non mi ricordo come si chiama, molto altezzoso, molto arrogantello, molto… ci dava lezioni, ci dava lezioni sul fatto che ci sarebbe la coda di persone a comprare l'Inter perché solo dalla partecipazione a questo torneo l'Inter avrebbe preso 50 milioni, solo dalla partecipazione. E quindi queste cifre di Ancelotti, 20 milioni per tutto il torneo, come si conciliano con i 50 milioni solo per la partecipazione raccontato dai cheerleader? Come si conciliano? Non si conciliano, non si conciliano. E quindi adesso andremo a vedere cosa succederà, se questo torneo si farà, se questo torneo non si farà, se questo torneo andrà a sostituire le squadre non partecipanti con altre squadre, perdendo quindi di ogni significato. Ma già il fatto che non c'è Real Madrid, già di per sé cade tutta l'impalcatura. Ma io credo che dietro a questo ci sia in realtà un progetto dietro che sicuramente con la testa Real Madrid sta cercando di far uscire quella Superlega che era stata tranciata dalla rivolta mediatica delle federazioni con l'aiuto dei governi, del calcio dei poveri, che doveva fermare il calcio dei ricchi, tutta questa schifosa demagogia senza senso, senza significato, come se da una parte ci fossero i ricchi e dall'altra i poveri. No, è una guerra tra ricchi, non una guerra tra ricchi e poveri. Io credo che Frontino Perez, viste anche le varie vittorie nei tribunali e alla Corte Europea, non abbia assolutamente messo da parte questo progetto e il tentativo dell'UEFA con una nuova modulazione della Champions League e della FIFA con questo torneo che sta perdendo i pezzi e i giocatori non vogliono fare, insomma questo torneo imposto dall'alto sta perdendo quel poco fascino che aveva, non sta già perdendo. Ora, io lo so cosa state pensando, andrà a finire, lo so che lo state pensando, andrà a finire che l'unica squadra che parteciperà per ovvi motivi sarà la Benamata e vuoi vedere che gli danno il mondiale di cartone, vuoi vedere che si portano a casa il mondiale di cartone, io lo so che lo state pensando. Ovviamente io mi auguro, e qui sarò pronto, lo dichiaro adesso, ma sarò pronto a mantenere la posizione in futuro se a qualcuno venisse la malaugurata idea di chiamare il Milan a sostituzione di qualche altra squadra. Ecco, io sarei fermamente, fortissimamente contrario, perché al di là del discorso economico c'è insomma una dignità da preservare, c'è uno stile, un qualcosa che non si può giocare, banalizzare per neanche una cifra economica che poi non è neanche che ti fa tutta questa differenza. A proposito di cifre economiche e di mercato, ovviamente io mantengo uno scaramantico silenzio sulla Z, so che sapete che le clessidre, ma io mantengo uno scaramantico silenzio, perché fino adesso è andata bene così, e quindi continuo così, sulla Z, mantengo scaramantico silenzio. Vediamo e aspettiamo. Un'altra cosa invece mi ha colpito, e questa volta l'ho trovata su Tutto Sport, un articolo su Salamecker, adesso seguite il ragionamento di Tutto Sport, il Torino è interessato a Salamecker, siccome il Bologna non lo ha riscattato per 10 milioni, seguite questo ragionamento perché l'ho trovato un po', però vedo che ragazzi funziona così, quindi bisogna… Allora, torno al ragionamento, siccome il Bologna non ha riscattato Salamecker per 10 milioni, il Torino lo può prendere dal Milan a una cifra inferiore ai 10 milioni. Scusate la pausa scenica, ma ci avete capito qualcosa voi? Cioè, scusate, per quale motivo Salamecker dovrebbe valere meno di 10 milioni, siccome il Bologna non l'ha riscattato per 10 milioni. Cioè, ma perché ogni giocatore del Milan deve essere svalutato, deve essere… Ragazzi, non può continuare così questo discorso, Furlani, Cardinale, mettiamo dei paletti a questa gente qua, perché questo discorso qui non può continuare in questa maniera. E c'è il Decateler, il Salamecker e Brescianini che l'anno scorso abbiamo dovuto darlo a zero al Frusinone, garantendoci un 50% sulla futura rivendita. Daniel Maldini che ci offrono due pere, quattro patatine, altri valutano carboni 30 milioni. Ragazzi, diamoci una svegliata e mettiamo a posto questi personaggi che scrivono queste cose, perché così veramente mi sembra un po' una presa per i fondelli. Forza Milan sempre! Zeta! Ciao!